Un incontro tra la Toscana e gli Stati Uniti d'America. Il presidente della regione Ricorossi ha ricevuto nella sede della regione Toscana il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Luis Heisenberg, che ha assunto l'incarico a Roma lo scorso ottobre. Il diplomatico per la prima volta a Firenze in visita ufficiale è arrivato a Palazzo Strozzi Sacrati accompagnato dal console generale a Firenze e Benjamin Waller. È un primo incontro, c'è interesse ovviamente sul versante economico a far aumentare gli investimenti da parte nostra nella nostra regione e a garantire che gli impegni nostri e loro siano tutti onorati. E' interesse da parte loro anche a supportare e aiutare gli investitori toscani che si recano negli Stati Uniti per fare business. L'incontro con il presidente Rossi è stato cordiale fra gli argomenti trattati, la sicurezza, le università americane, ma soprattutto gli investimenti economici dei toscani negli Stati Uniti d'America e viceversa degli americani in Toscana. L'ambasciatore Heisenberg ha voluto sottolineare come il dinamismo economico della Toscana a confronto con le altre regioni italiane sia riuscito a contenere meglio gli effetti della crisi. Io ho detto questo lo si deve anche agli investimenti americani che sono venuti qui, che hanno dato lavoro, che hanno rispettato appunto gli impegni che sono stati assunti. Siamo rimasti d'intesa che si svolgerà nei prossimi tempi un incontro con gli imprenditori toscani che investono negli Stati Uniti allo scopo anche qui di agevolare gli scambi economici e quindi favorire la crescita in entrambi i Paesi.